Buongiorno a tutti affezionati del giovedì. La Fenice Curiosa è pronta con una nuova avventura. Oggi scopriremo insieme l'origine del famosissimo Biscione di Milano. In città se ne trovano tantissimi e tutti rappresentano la stessa scena, un enorme biscia, il bisun, che divora un uomo. Nonostante sia il simbolo di Milano, l'origine di questa figura non è chiara. Secondo alcuni storici, il Biscione sarebbe stato creato da Ottone Visconti, figlio di un potente signore feudale, che era giunto alla nomina di arcivescovo grazie al sostegno del papa Gregorio X. Per ringraziare il pontefice, Ottone Visconti decise di immortalare sul suo stemma il moro vomitato dal serpente, chiaro riferimento all'impegno di Gregorio X nella nona crociata. Secondo un'altra leggenda fu invece Azione Visconti, nel 1323, a volere il Biscione. Accampato con le sue truppe nei pezzi di Pisa, non si accorse che una vipera si era intruffolata nel suo elmo, ma quando lo indossò il serpente sgusciò via senza morderlo. Esistono anche leggende più antiche, come ad esempio quella di Desiderio, re dei Longobardi, che si addormentò sotto un albero e si risvegliò con una vipera arrotolata in testa a mo' di corona. Poiché la vipera non lo morse, Desiderio interpretò il fatto come un prodigio e volle l'animale come suo simbolo. Un'altra leggenda narra che il serpente fu scelto come simbolo dei Visconti dopo che Uberto, capostipite della famiglia, liberò Milano da un terribile drago che infestava le acque del lago Gerundo, uno specchio d'acqua ora prosciugato che si estendeva ad est di Milano. La creatura faceva strage soprattutto di bambini, così quando il valoroso Uberto la sconfisse, scelse come stemma della sua casata proprio il biscione con un bambino in bocca. Insomma, tante origine e nessuna certezza. Quello che è sicuro è che si tratta di un'immagine talmente forte e suggestiva che, oltre ad essere stata rappresentata un po' ovunque in giro per la città di Milano, è anche stata adottata nel tempo quale stemma da tante altre diciamo casate, come ad esempio il Comune di Milano, l'Inter, Canale 5 e l'Alfa Romeo.